Si è trattato di ricostituire sostanzialmente una serie di percorsi che mancavano non di professionalità ma di unicità nel senso di dare la stessa risposta ai cittadini secondo le diverse forme di erogazione. Abbiamo costituito questo centro unico che ha la prospettiva di divenire anche per tutta l'età una soluzione dei problemi o quantomeno un approccio alla soluzione dei problemi. Certamente questo è solo un primo passo però abbiamo riqualificato degli ambienti che sono molto gradevoli, adeguati alle varie situazioni. Abbiamo messo insieme un team di professionisti molto qualificati e credo che questo sia il nucleo sul quale possiamo costruire e costituire un nuovo volano per affrontare il tema dei disturbi del comportamento alimentare. Allora è assolutamente importante, è un'emergenza che c'è da svariati anni ed è importante che quest'anno con l'azienda si sia creato questo centro per i disturbi alimentari che ha coagulato le forze già esistenti ma che in questo momento ha una sede, una logistica e degli operatori molto competenti, formati, motivati e questo è l'aspetto importante, in collaborazione con, quindi sono psichiatri in collaborazione con internisti e nutrizionisti. È l'unico modo riconosciuto per intervenire sui disturbi dell'alimentazione e quindi siamo molto felici di poter essere qui nel 2018 a testimoniare questo. Allora il nostro centro si articolerà in attività ambulatoriali e in attività di centro diurno che significa che è una struttura dedicata all'assistenza fisica al pasto di utenti in un regime di semi-intensività. I pasti saranno assistiti quindi garantito il monitoraggio da parte di operatori che sono stati adeguatamente formati su questo. Il pasto assistito è inserito all'interno di un percorso terapeutico riabilitativo nel quale rientrano anche attività di psicoterapia, individuale, di gruppo, terapia della famiglia e laboratori occupazionali che sono dei momenti molto importanti di aggregazione per le pazienti affette da disturbo alimentare dove uno dei tratti caratteristici come conseguenza della malattia è appunto l'isolamento. In più l'attività ambulatoriale del centro diurno si integra anche con delle attività più complesse con presenza fisica della nostra equip nei reparti di degenza ospedaliera dove vengono ricoverate le pazienti per il momento adulte ma al nostro obiettivo anche pediatriche che hanno necessità di un'assistenza molto molto intensiva per stabilizzare la situazione organica. Il nostro ruolo è di rappresentare le famiglie delle ragazze e dei ragazzi che soffrono di questi disturbi e che finalmente adesso hanno un posto dove ritrovarsi, dove curarsi e dove stare bene. Noi ringraziamo veramente l'amministrazione dell'ospedale, in particolare il dottor De Lendi ma soprattutto ringraziamo gli operatori di questo centro che con molto entusiasmo l'hanno creato e l'hanno fatto crescere. Ringraziamo anche per averci fatto partecipare, è stata una sinergia bellissima e ci siamo sentiti veramente utili per la creazione di questo centro.